3, 2, 1, ciak! Prof, che cosa facciamo questa sera? Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Cercare di non farci condannare dal Kodakons. Dove sta? Mi faceva ridere, non c'è niente da fare. Le posso fare una piccola domanda per un sondaggio Istat? Certo. Nella diatriba Fedez Kodakons, lei per chi ti fa? Per chi è Fedez? Sì, cazzo! Diglielo!